Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta da Via Giovinazzi, ci troviamo nei pressi del portoncino della Sagrestia della Chiesa del Carmine, dove alle 15 in punto uscirà la prima posta di perdoni, la coppia di perdoni. E' quindi un momento importante, un momento simbolicamente tra i più importanti della Settimana Santa Tarantina che darà avvio proprio ai riti, al Triduo Pasquale, un momento particolarmente sentito in città da tutti, dai tarantini, dai fedeli, ma anche dai tanti tarantini che risiedono in altre città che per l'occasione scendono a Taranto. Dunque mancano pochissimi minuti all'apertura del portoncino, è quasi tutto pronto, assisteremo in rigorosa diretta grazie alle immagini del nostro Francesco Manfuso all'uscita della prima posta. Prima posta di campagna, sono in tutto 18 quest'anno le poste di campagna, le poste di perdoni, le coppie di pellegrini che si recheranno appunto in pellegrinaggio presso le chiese della città per pregare davanti all'altare della reposizione. E poi invece sono 45 le poste di città che si recheranno invece nelle chiese della città vecchia, sempre per l'adorazione all'altare della reposizione. Usciranno quasi in contemporanea, prima uscirà la posta qui dal portoncino di via Giovinazzi, qualche minuto più tardi invece ci sarà l'uscita della prima posta dal portone principale della chiesa del Carmine in piazza Giovanni XXIII, più nota come piazza Carmine. C'è come tradizione tantissima gente assiepata sia qui in via Giovinazzi, nei pressi del portoncino della sagrestia della chiesa del Carmine ma anche nella piazza principale per assistere all'uscita della prima posta di città. Da oggi dunque Taranto si immerge nel triduo pasquale, tre giorni da vivere intensamente nel segno della tradizione e della fede in un anno purtroppo molto particolare per Taranto, per le tante vertenze in corso che stanno mettendo davvero a dura prova la città e tutti i tarantini. C'è emozioni ovviamente, l'abbiamo detto già in partenza, questo è un momento molto atteso, questa uscita della prima posta dei perdoni qui dal portoncino della sagrestia della chiesa del Carmine. Adesso proviamo anche a sentire qualcuno, ci sono come già detto tantissime persone, anche tanti giovani ed è questo sicuramente un gran bel segnale, i giovani che si avvicinano alla fede, alle tradizioni, a questo momento particolarmente sentito in città i riti della settimana Santa Tarantina. Nel pomeriggio ci saranno altri appuntamenti, vale a dire la cena domini alle 16.30 sia presso la chiesa del Carmine che presso la chiesa di San Domenico, poi stasera l'attesissima processione, il pellegrinaggio della Dolorata che uscirà a mezzanotte dalla chiesa di San Domenico Maggiore in Città Vecchia per poi snodarsi tra le vie della città vecchia per giungere poi in città, vi farà rientro a San Domenico domani intorno alle 14.00. Domani pomeriggio invece alle 17.00 l'altro grande appuntamento con la processione dei Sacri Misteri che uscirà alle 17.00 dal portone della chiesa del Carmine per poi snodarsi per le vie del centro raggiungendo la chiesa di San Francesco dove ci sarà una sosta, poi la ripresa della processione per il percorso inverso, quello di rientro che avverrà intorno alle 7.00 di sabato, del sabato santo, anche quello un momento davvero magico, un momento attesissimo con le canoniche bussate del troccolante. Allora proviamo a sentire qualcuno, lo dicevamo c'è tanta gente già siepata qui nei pressi del portoncino della chiesa del Carmine, proviamo a sentire anche il pensiero di qualcuno, buon pomeriggio. Chiedo a Francesco Manfuso di seguirmi, proviamo a sentire qualcuno, buon pomeriggio, un momento importante per la città inizia... Questo è l'importante del momento, che devo dire? È un abitué della settimana santa? Sempre, sempre, tutti gli anni veniamo a sentire. Perché lui è di Martina, io sono tarantina e quindi sono cresciuta. Quindi ci tenete molto, ci tiene anche lui? Molto, molto. E tutti i miei figli, ne ho sei e li ho tutti abituati alle tradizioni nostre. Beh, è un bel momento, un momento che unisce la città. Molto bello, proprio. Grazie, grazie per questo contributo e allora chiedo a Francesco Manfuso di seguirmi. Buon pomeriggio, siete abitué della settimana santa? Sì, di solito sì. È un momento che avete già seguito, questo, l'uscita della prima posta? Da una vita, da una vita. Siete ovviamente di Taranto, sì? Certo, sì, sono tarantina puro sangue. Sì, e quindi mi piacciono queste processioni e le sento molto. Per me non è una tradizione, è più una cosa spirituale. Questo poi è un momento molto particolare, questa uscita della prima posta che dà l'avvio proprio ai nostri riti. Esatto, è emozionante, sì. E si aspetta un anno per avere questo momento, per viversi questo momento. Grazie, buona settimana santa. Vediamo di ascoltare qualche altro... Qualche altra persona? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. È un bel momento per la città, c'è grande attesa, i riti sono sempre i riti. Come tutti gli anni, è un rito che è nel cuore dei Tarantini. È sempre presente lei qui per assistere a questo momento? Io sì, sì, sempre, sempre. È un momento che unisce la città? È un momento molto bello, uno dei pochi momenti dei Tarantini buoni. Bisogna anche appigliarsi alla fede in un momento così particolare per la città. Sta succedendo la fede, dovrebbe aiutare a superare almeno qualche problema. Grazie, grazie. Intanto si sta schiudendo il portoncino della Chiesa del Carmine. Ecco la prima posta, la prima posta di campagna. Vi facciamo vivere questo momento in diretta con le immagini del nostro Francesco Manfuso. Un momento molto atteso. C'è la benedizione del padre spirituale dell'arci confraternita del Carmine, Don Marco Gerardo, alla prima coppia di perdoni che sta varcando, che ha varcato il portoncino della Sagrestia della Chiesa del Carmine. Grande emozione tra i presenti. Tante foto, tanti video. Un momento davvero molto atteso. Ovviamente è presente anche il priore dell'arci confraternita del Carmine, Antonello Papalia, che sta sistemando gli ultimi dettagli. Ed ecco dunque che la prima posta è pronta ad avviarsi. Posta di campagna. Ricordiamo, le poste di campagna si recano in pellegrinaggio nelle chiese della città. Sono 18 quest'anno. 45 invece le poste di città che si recano invece nelle chiese della città vecchia per l'adorazione dell'altare della reposizione. Grande folla, tantissime le presenze. per uno dei momenti simbolicamente più importanti dei riti tarantini. Scusate. 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 Per Tarantino, quest'anno complice anche il tempo, devo dire. Sono accanto a Carmine Carlucci, storico, confratello, ma anche cultore delle tradizioni tarantine. È un appuntamento fisso, tutti gli anni ti ascoltiamo volentieri. E allora, un bel momento questo, uno dei momenti più significativi, forse, della nostra settimana santa. Certo, un momento di grande emozione per la verità e per noi che siamo confratelli da tanti anni, comunque cittadini veraci come si suol dire, essendo per esempio io nato nella città vecchia, assistere all'uscita della prima posta è sempre un momento di grande emozione. e poi vedere tanti cittadini, ma soprattutto tanti ragazzi, tanti giovani. Tanti bambini, no, tanti bambini. Questa è molto bella, vuol dire che le nostre tradizioni non si perderanno, perché il futuro... Saranno tramandate. Saranno tramandate a questi bambini e del resto è l'impegno che il Comitato per la Qualità della Vita porta avanti da tanti anni, appunto con il progetto I Giovani e la Settimana Santa. Carmine Carlucci, Taranto dunque si immerge, si è immersa da qualche minuto nel suo triduo pasquale. Ecco, è un momento importante, un momento che unisce la città, una città martoriata a causa delle tante vertenze in corso. È utile anche appellarsi all'aiuto del Signore? È utile questo momento di speranza, come dice Papa Francesco. La speranza non ci deve abbandonare e io mi auguro che queste nostre tradizioni in qualche maniera scuotano le coscienze anche dei nostri amministratori e dei nostri politici per un impegno serio nei confronti dei giovani perché certo abbiamo una città in grande difficoltà ma è possibile uscire dal degrado se veramente c'è un impegno corale e noi ce la stiamo mettendo tutta anche contando sull'università a Taranto che può essere veramente la chiave di volta di un rinnovamento della nostra società. Per adesso godiamoci la Pasqua e dunque tanti auguri. Pensiamo alla Pasqua e auguri a tutti. Grazie, grazie a Carmine Carlucci per questo contributo. Continuiamo a mostrarvi queste meravigliose immagini dell'uscita della prima posta dei perdoni dal portoncino della sagrestia della chiesa del Carmine. Immagini del nostro infaticabile Francesco Manfuso, preziosissimo come sempre. Anche per le nostre dirette, le dirette sulla pagina Facebook di Cronache Tarantine ormai è una tradizione, vi mostriamo questi momenti tutti gli anni e saremo in diretta per mostrarvi anche le emozioni, tutte le emozioni del rientro della processione dei misteri sabato mattina, poco dopo l'alba del sabato santo quando la processione dei misteri rientrerà in chiesa dopo il pellegrinaggio con sosta presso la chiesa di San Francesco in via Regina Elena. Si avvia dunque la prima posta di perdoni, inizia il pellegrinaggio che ci accompagnerà poi alla processione dell'addolorata a mezzanotte proprio del giovedì santo uscirà dalla chiesa di San Domenico. Ci sono tantissimi giovani, lo diceva anche Pocazzi Carmine Carlucci, un bellissimo segnale escono intanto le altre poste di pellegrini ha avuto dunque ufficialmente inizio la settimana santa tarantina, i riti per meglio dire hanno avuto inizio i riti tarantini che caratterizzano la settimana santa riti conosciuti in tutto il mondo, ecco il momento della benedizione da parte del padre spirituale Don Marco Gerardo, è presente anche il priore Antonello Papalia, sono momenti molto sentiti un pomeriggio davvero primaverile, ne parlavamo prima con alcune persone qui presenti un pomeriggio caratterizzato da un clima mite, c'è anche il sole, meglio così la città può godersi in tutta tranquillità, in tutta serenità i riti della settimana santa è appena uscito il prefetto di Taranto, la dottoressa Paola Desi dalla sagrestia della chiesa del Carmine adesso il saluto con il padre spirituale Don Marco Gerardo è la prima volta che il prefetto assiste ai riti della settimana santa avendo preso l'incarico soltanto da qualche mese un bel momento sicuramente anche per il prefetto di Taranto che vivrà le emozioni dei nostri riti riti dicevamo conosciuti in tutto il mondo arriva gente anche dall'estero per assistere alle nostre tradizioni, alle nostre processioni provo a divincolarmi tra le tante persone presenti siamo in rigorosa diretta, non è facile muoversi in mezzo a tanta gente, in mezzo a questa folla sono in attesa di intervistare Antonello Stenta dell'arci confraternita del Carmine intanto vi facciamo gustare queste bellissime immagini le prime due poste che stanno per avviarsi rigorosamente a piedi scalzi intanto proviamo a sentire qualche spettatore buon pomeriggio buonasera buonasera la prima volta no sicuramente no non è la prima volta, la prima volta con mia figlia è emozionata? sì, sì, è sempre una grande emozione chi è tarantino lo sa certo, è bene anche tramandare le tradizioni ebbè, sono loro il nostro futuro quindi è anche compito nostro tramandare quelle che sono le tradizioni e le culture popolari ovviamente seguirete anche le processioni certo, certo grazie, buona settimana santa e allora ne parlavamo, tanti giovani presenti anche tanti bambini che fanno foto, fanno video sono sicuramente momenti indimenticabili soprattutto per i più piccoli che magari si avvicinano per la prima volta a questi riti, a queste tradizioni ci sono tantissimi colleghi impegnati già da oggi pomeriggio per le dirette per i servizi che poi verranno diffusi attraverso le varie testate anche cronache e tarantine come ogni anno vi mostrerà tanto di questa settimana santa adesso siamo in diretta l'altra diretta è in programma sabato mattina ma per il resto tutti gli aggiornamenti potrete trovarli sul nostro sito anche con una galleria fotografica che raccoglierà e riassumerà tutti i momenti più importanti di questi riti della settimana santa difficile muoversi provo a farlo chiedo a Francesco Manfuso di continuare a seguirmi provo a sentire qualche altra persona buon pomeriggio è un abitué dei riti sì, io ci sono anche in banda quindi sono anche musicista ah ecco quindi non solo spettatrice è anche coinvolta in questi riti in quale banda? la Santa Cecilia la banda Santa Cecilia che sarà impegnata durante i riti della settimana santa sarà impegnata sia questa notte che domani e lei suona? sì sia stasera che domani che emozioni si provano a suonare in una banda che segue le processioni? emozioni indescrivibili sia perché sono tarantina e quindi li sento particolarmente questi riti e sia perché da musicista accompagni tutte e due i pellegrinaggi di questa notte e la processione di domani che sono tutte e due delle emozioni che non si possono descrivere anche perché la mamma la dolorata è la mamma di tutti invece la processione dei misteri è diciamo l'escursus di tutta la vicenda che ha coinvolto Gesù qual è il momento più bello per lei delle processioni? qualsiasi momento è bello però in particolare quando albeggia sia quando albeggia la dolorata perché il cielo assume dei colori meravigliosi e vedere questa mamma che cerca il figlio con le sue lampade è sempre un'emozione grande 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 e i misteri quando invece escono da San Francesco perché via Anfiteatro è leggermente in discesa ragion per cui si vedono da dietro dove siamo noi tutte le statue che dondolano in fila ed è un'emozione indescrivibile non si possono descrivere a parole devi provare e poi c'è la classica bussata del troccolante che va a chiudere i nostri riti anche quello è un momento particolarmente sentito molto molto sentito però io in persona non l'ho mai visto perché la mia banda da quando avevo 16 anni lo suono ed è sempre stata una delle ultime prima eravamo dietro la sindone adesso da tanti anni chiudiamo noi la processione quindi dietro la dolorata e personalmente non ho mai avuto la fortuna di vederla se non quando ero molto piccola con i miei genitori e un'altra emozione è quella di suonare stavo dicendo prima perché tu in prima persona ti rendi conto delle musiche che accompagnano queste statue e non questi riti proprio la statua che tu accompagni viene sempre dondolata a suon di musica e le nostre marce sono particolari quanta preparazione c'è dietro questi momenti dietro i riti della settimana santa dalla parte dei confratelli sicuramente tutto l'anno dalla parte dei musicisti anche e dalla parte anche dei compositori perché ognuno di noi fa parte di una banda però molte delle nostre bande hanno i direttori che hanno proprio scritto delle marce appositamente quindi è sempre inarrestabile il lavoro dietro adesso bisogna convincere anche i più giovani lui è mio figlio ecco appunto dicevo lui è mio papà che suona anche lui è piattista e quindi noi di famiglia proprio siamo tarantini da generazioni mio marito è di paese ma è come se fosse tarantino acquisito e anche lui è trombettista però è ancora presto per portarlo in banda che ne pensi di questi riti ti piacciono? eh sì effettivamente sì è una bella emozione vederli e magari tra qualche anno anche io mi ritroverò con li a suonare adesso segui mamma e papà sì quando quando l'occasione si risegue seguirai le processioni la processione della dolorata la processione dei sacri misteri le hai già seguite ti piacciono? sì mi piacciono tanto la condannata nel carrozzino ci proviamo anche quest'anno va bene grazie grazie per questo preziosissimo contributo buon lavoro e buona settimana santa proveremo a sentire anche altri contributi c'è davvero tanta gente non è facile muoversi adesso sono nel recinto dedicato appunto all'uscita delle poste avevo intravisto anche il priore Antonello Papalia ma sono momenti davvero particolari difficile avvicinarlo in questa fase intanto qualche notizia relativa alle processioni posso comunicarvi ecco lo vedo Antonello Stenta al volo non la terrò tanto come gli altri colleghi Antonello Stenta tra i vertici dell'arci confraternita del Carmine di Taranto allora un grande momento inizia il triduo pasquale la città si unisce nel segno della tradizione ma anche della fede si iniziano i riti con le uscite appunto del pellegrinaggio quindi è un forte momento innanzitutto religioso sacro un appuntamento appunto sacro ed è un aspetto identitario con la nostra città io penso che con i nostri confratelli per le strade del borgo e della città vecchia più tarantinità di questa non si può è l'espressione massima dell'identità della nostra città è un momento particolare quello che sta vivendo la città di Taranto tante le vertenze in corso dunque sarà una settimana santa ancora più sentita bisogna appellarsi anche alla fede all'aiuto di Dio certamente tant'è vero noi prima di uscire in pellegrinaggio c'è un momento intimo con il padre spirituale della confraternita con il priore noi componenti del consiglio di amministrazioni e le poste che devono uscire in pellegrinaggio per tradizione si affida un'intenzione di preghiera ai nostri fratelli che escono in pellegrinaggio e non a caso il padre spirituale ha chiesto di pregare per la città per il mondo intero visto che è un momento dove la pace scarseggia per i fatti luttuosi che accadono nel mondo c'è tanto lavoro dietro le processioni c'è anche un pizzico di stanchezza però poi c'è la soddisfazione di vedere tanta gente presente e la notizia forse è che ci sono tanti giovani che si avvicinano ai nostri riti il lavoro c'è è innegabile il lavoro la macchina organizzativa parte da subito dopo già con delle idee abbozzato così dopodiché inizia a prendere corpo subito dopo novembre chiaramente c'è tanto lavoro ma la stanchezza anche se c'è una stanchezza fisica viene soppressa dalla passione dall'amore nei confronti dei riti quindi non siamo per niente stanchi grazie grazie buona settimana santa ad Antonello Stenta continuano ad uscire le poste di pellegrini dal portoncino della sagrestia della chiesa del Carmine mi fa segno Francesco Manfuso dobbiamo andare a chiudere dunque stiamo per salutarvi dopo ovviamente avervi fatto vivere rigorosamente in diretta questi momenti davvero magici l'uscita della prima posta e adesso delle altre poste anche poste di campagna che visiteranno le chiese della città per l'adorazione dell'altare della reposizione ancora un minutino poi ci saluteremo con le immagini di Francesco Manfuso che vi avrà sicuramente già mostrato le tantissime persone presenti e dunque ringrazio Francesco Manfuso per la preziosa collaborazione grazie a tutti voi per averci seguito l'appuntamento con le nostre dirette rimandato a sabato mattina ci vedremo all'alba per raccontarvi le emozioni del rientro della processione dei sacri misteri prima di chiudere volevo semplicemente aggiungere questo volevo illustrarvi quelle che sono le otto personalità che sono state chiamate a reggere il laccio della statua di Gesù morto ovviamente ci riferiamo alla processione dei sacri misteri in programma domani e saranno l'avvocato Francesco Tacente figura di spicco nel panorama giuridico e associativo della città attuale presidente del CTP poi ci saranno il dottor Angelo Voza uomo di grande impegno e dedizione esercita dal 79 la professione di odonto iatra poi ci sarà il signor Michele Papa fratello di sua eccellenza Monsignor Benigno Luigi Papa Giarci vescovo della città di Taranto e grande esperienza la sua nel campo della radiologia medica poi ci sarà l'ingegner Giorgio Tonti che si è distinto nel campo dell'ingegneria civile nonostante abbia soltanto 38 anni ha fatto parte del gruppo di lavoro per gli interventi di restauro e valorizzazione dell'Arci di Ocesi di Taranto queste saranno le quattro personalità che reggeranno il laccio nella prima parte della processione nella seconda invece ci saranno il cavalier professor Giovanni Schinaia cassiere dell'Arci confraternita del Carmine oltre che docente di latino e greco presso il liceo ginnasio Aristosseno ci sarà il cavalier Nicola Albano figura nota nella comunità religiosa locale per aver trascorso gran parte della sua vita al servizio della comunità e della chiesa ricoprendo anche diversi incarichi poi il cavalier Giancarlo Speranza Roberti il priore della confraternita della Dolorata e San Domenico e infine il professor Antonio Liuzzi priore emerito della confraternita della Dolorata e San Domenico questo era doveroso insomma questo era l'elenco delle personalità che reggeranno il laccio di Gesù morto a completamento di questa diretta pomeridiana qui da via Giovinazzi nei pressi del portoncino della sagrestia della chiesa del Carmine è davvero tutto ancora grazie a Francesco Manfusi e a tutti voi ci rivediamo sabato mattina per un'altra diretta da non perdere arrivederci